Ciao a tutti, vediamo in questo video la coppia Vergine più Capricorno in amore. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto in link in descrizione. Allora, Vergine e Capricorno sono due seni di terra che hanno uno stile di vita simile, abbastanza riservato, molto iperlogici. Viaggiano da questo punto di vista sulla stessa lunghezza d'onda. Sono amanti della precisione, amanti dell'impegno, hanno un'affinità intellettuale che spesso è molto importante per cui diciamo ci sarà una buona intesa come coppia e anche un'intesa fisica elevata perché entrambi diciamo hanno la loro modalità sempre un po' iperlogica, meno eccessivamente passionale di vivere la relazione. Quello che talvolta non può funzionare è un eccesso di iperlogicità che può portare un po' di noia e anche talvolta che la Vergine è molto pignola e quindi rispetto al Capricorno che è sì razionale ma meno pignola e meno ordinato, quindi nella routine quotidiana ci potrebbe essere qualche incompatibilità da questo punto di vista ma in generale è una coppia che funziona molto bene. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!